ciao a tutti e bentornati in questo video vi facciamo vedere come si monta un orologio al quarzo da parete qui vediamo l'orologio vediamo i vari componenti le lancette lancetta dei secondi vedremo fra un po abbiamo visto prima quella delle ore minuti rondella dado e i secondi il meccanismo poi servirà una batteria e poi abbiamo scelto un cd come quadrante abbiamo anche una rondella in gomma poi sarete voi a scegliere scegliere il vostro quadrante che preferite se dovete costruirvi un orologio oppure se avete un orologio rotto sostituirete il meccanismo il movimento al quarzo e lascerete il vostro quadrante vediamo la più lunga è la lancetta delle dei secondi poi abbiamo le ore e poi minuti partiamo con il montaggio quello che vedrete può essere applicato a qualsiasi orologio quindi se avete a casa degli orologi rotti fermi magari è il momento di sostituire il movimento al quarzo con pochi euro il vostro orologio ripartirà nuovo allora mettiamo il movimento il meccanismo al quarzo mettiamo la rondella in gomma serve per fissare per centrare bene il quadrante mettiamo un'altra rondella in metallo e chiudiamo bene con un suo dado va fissato bene il movimento al quarzo al quadrante noi qui abbiamo scelto un cd un quadrante può essere di qualsiasi cosa quindi se anche pesante va fissato bene adesso procediamo inseriamo prima le ore devono andare fino in fondo quando posizionate bene poi i minuti ecco stiamo inserendo i minuti se procediamo in modo corretto le lancette devono essere parallele non si devono mai toccare e adesso mettiamo i secondi quindi abbiamo messo ore minuti e secondi adesso vi faremo vedere che le lancette sono parallele non si toccano sotto abbiamo le ore poi minuti e poi secondi le lancette sono in plastica possono essere anche colorate se vogliamo possiamo anche tagliarle le lancette possiamo anche accorciarle adesso inseriamo la batteria e vedremo funzionare il nostro orologio per regolare l'ora esatta dobbiamo sempre girare l'orologio le lancette in senso orario ecco abbiamo finito ecco un orologio al quarzo funzionante un orologio da parete grazie per l'attenzione e se vi fa piacere iscrivetevi al nostro canale youtube grazie vi aspettiamo per un prossimo nostro video grazie a tutti grazie a tutti